Buon martedì 29 novembre, un turbinio di pensieri abitano la mia mente. Questi pensieri sono generati dall'incontro con la realtà, con il prossimo, col farsi prossimo nei confronti degli altri, con l'attenzione nei confronti della lettura dei giornali, che io leggo purtroppo solamente su internet perché non sono in grado di leggere un giornale. A causa delle mie difficoltà di vista. E poi c'è l'insieme degli elementi che costituiscono il clima, non solo meteorologico, ma il clima culturale, spirituale, che stiamo vivendo, improntato alla paura. Non saprei francamente da dove cominciare. Parto prima di tutto dal club, nel quale, in virtù delle infinite risorse che sono portate dai membri del club, scopro costantemente la difficoltà di far penetrare nella cultura esistente un pensiero che sia autenticamente ecologico. E questo pensiero ecologico dovrebbe sbarazzare il campo da le forme narrative dell'egocentrismo, il quale conferma se stesso attraverso anche la semplificazione della divulgazione culturale scientifica. Mi riferisco a un brevissimo dialogo intercorso con un membro del club, il quale affermava di aver sentito un noto psicanalista, affermare che l'io è il cavaliere dell'inconscio, lo deve dominare, altrimenti saremo travolti dall'inconscio. L'immagine è estremamente efficace, non c'è alcun dubbio dal punto di vista divulgativo, rassicurante perché fa sì che possiamo attribuire a ogni forma di terapia, quella della parola, quella farmacologica, quella riabilitativa in luoghi di contenimento, la funzione di rafforzare questo io. Posizione radicalmente opposta rispetto invece a quella ecologica, la quale cerca in tutti i modi di togliere dalla scena questo io, dominatore, padrone, controllore. È vero che rafforzando l'io in una posizione sostanzialmente nevrotica facciamo sì che viviamo in difesa, rafforzati, chiusi dentro i nostri fortini, ritenuti assediati e interpretiamo l'inconscio come qualcosa che abita la nostra intimità. Lo rappresentiamo simbolicamente come qualcosa da esplorare, magari un giorno da ritrovare, attraverso la più raffinata ricerca biomedica. Ma non è così. L'inconscio è l'imprevedibile, ciò che non è conosciuto. E siccome la nostra vita è condizionata prevalentemente da ciò che non è conosciuto, siamo destinati a coltivare una posizione antropologica improntata alla condivisione, non allo schiacciamento nel collettivismo, è condivisione. Simone Weil ci ricorda come il sacro non è la persona, ma non è neanche il collettivo, anzi il collettivo rappresenta un ostacolo quasi insuperabile nei confronti del sacro. La persona, la maschera, è quell'insieme di etichette identitarie che costituiscono la nostra esistenza, maschera alla quale siamo profondamente affezionati, affezionati, perché garantisce appunto le sfaccettature della nostra identità. Ma quella identità difesa, con le unghie e coi denti, ci impedisce di attingere al sacro, cioè alla consapevolezza che la vita alla quale apparteniamo non è qualcosa che coincide con la nostra transitoria esistenza. La vita è il fluire dinamico in questo pianeta, nell'universo, di un mistero molto profondo al quale noi possiamo attingere solamente in punta dei piedi con fare contemplativo. Io so che questi ragionamenti non sono applicabili alla divulgazione semplicistica, perché richiedono una formulazione di domande da sviluppare e io ringrazio chi ha il club voluto sottolineare questo aspetto perché appartiene profondamente alla cultura dominante esistente e i club sono chiamati nel cambiamento auspicato della cultura dominante in tessere trame vitali che ci allontanano, che ci allontanino. Questa è una speranza, naturalmente. Non siamo certi che accadrà e quindi ero tentato a dire allontanano, ma non sono sicuro che questo accadrà. Quindi uso l'allontanino. speriamo che questo accada, ma temo che raramente questo accadrà nella vita di ciascuno. Eppure, nonostante questo, nonostante le infinite tentazioni della semplificazione, questo è il mandato che riceviamo, quello di una vita comunitaria caratterizzata dall'incontro e condivisione di destini. Questi destini sono segnati da una componente inconsapevole, generativa, di sensorialità che ci precede ed è largamente inaccessibile alla nostra razionalità. Non perché siano delle trame oscure che scuotolano la nostra coscienza, ma perché gran parte delle nostre decisioni, delle nostre intenzioni, delle nostre volontà che esitano poi in comportamenti. Non sono formulate da questo io cavaliere, ma sono determinate per l'80% da aspetti che non siamo in grado né di comprendere, né di rilevare coscientemente, e neppure di orientare attraverso la conoscenza. Siamo chiamati pertanto a vivere nella dimensione dei piccoli della Terra, quelli ai quali è dato conoscere nel dettato evangelico la vera sapienza. Padre, tu hai nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, agli eruditi, e le hai svelate ai piccoli, che naturalmente nell'essere piccoli rappresentano non la celebrazione dell'ignoranza, dell'analfabetismo, ma rappresentano questi piccoli questa possibilità che ciascuno di noi di riconoscersi sostanzialmente impotente e vivere questa impotenza con serena leggerezza e allegria, con gioia profonda poter danzare con sorella povertà, fratello sole, anche sorella morte. vivendo queste dimensioni all'insegna di una inconsapevole capacità di farci attraversare dalla vita e fare sì che questa vita generi costantemente pulsioni gioiose anche nel momento della tragedia, ma tant'è, credo sarà un'impresa dell'ordine dell'impossibile, ma non per questo dobbiamo allontanarci dalla responsabilità di agirla costantemente giorno dopo giorno anche nelle pratiche del mondo dei club. È attraverso questa serena impotenza che non ci esenta dall'agire, ma lascia ampio spazio anche al non agire. Lasciamo che le cose accadano, poi poniamo attenzione a quella piccola parte che compete alla nostra responsabilità e alla nostra etica. È un grande lavoro fatto per riuscire a ridurre almeno questa posizione potentemente egocentrica che rafforza costantemente l'io e che trasforma le nostre vite in una costante postura di insoddisfazione, di rabbia contenuta, di angoscia che non si libera, che viene trattenuta e prende la via della rabbia, del distanziamento, dell'isolamento, del rafforzamento delle maschere, oppure porta inevitabilmente a quelle forme di conformismo collettivista il quale non dà alcun spazio alla possibilità della trasgressione, ma la prima trasgressione dobbiamo operarla nei confronti di noi stessi, se non cambiamo noi è molto improbabile che il mondo possa cambiare, naturalmente per fortuna una remota probabilità che il mondo cambi comunque c'è, poi se cambia e noi non siamo disponibili alla flessibilità necessaria per porre mano al superamento della posizione egocentrica finiamo per cadere in un disagio profondo perché non accettiamo la realtà per quello che è ma ci ancoriamo all'idea di una realtà immaginata, ideale rispetto alla quale viviamo la dimensione della frustrazione, non abbiamo trovato il partner ideale, non abbiamo il lavoro che avremmo desiderato e pensato fin da piccoli o comunque che i nostri genitori avevano immaginato per noi, non viviamo nella casa ideale, non abbiamo soldi a sufficienza per soddisfare i nostri bisogni in gran parte manipolati, orientati dalla logica del consumismo, non siamo normali quanto vorremmo e quella normalità la lasciamo a quelle forme di rappresentazione simbolica idealizzata che sono i corpi perfetti inossidabili perduranti nel tempo a una sessualità mirabolante che non trova le contraddizioni della necessaria mediazione intersoggettiva che sempre la sessualità incontra perché la sessualità è luogo anche di creatività ed è una creatività che nasce anche dalla contraddizione, dalle posizioni controverse, desideranti, dalle disarmonie che inevitabilmente accadono nel costruire percorsi di relazione di coppia ma esiste anche questa dimensione erotica nella relazione educativa la quale assume molto spesso una posizione di imposizione nei confronti dell'altro. Io ti voglio indottrinare sostanzialmente e non tengo conto delle sfumature della tua capacità cognitiva tutti gli aspetti che confondono la scena e ci portano a riflettere sulla politica per esempio da molti anni l'antipolitica una nuova forma di manipolazione della politica che si fa politica perché l'antipolitica poi si costituisce in partiti e movimenti non dimentichiamocelo i quali come tutti come anche i partiti tradizionali aspirano al potere maschi o femmine che siano non cambia assolutamente nulla ne abbiamo testimonianza nell'attuale primo ministro di questa nazione quale sorprende ma dov'è la sorpresa francamente mi sorprendo che si sorprendano soprattutto la componente femminile della sinistra che guardano come un grande successo che una persona di genere femminile assurga il potere francamente ci sono stati altri personaggi nel scenario mondiale che sono salite al potere alcune si sono comportate in maniera eccellente alcune alcune francamente hanno fatto nient'altro che la fotocopia della bruttura del potere maschile quindi il potere così come ci sono stati maschi che hanno governato saggiamente altri la maggioranza l'hanno fatto in malo modo in modo violento allora il punto cruciale per favore non è la conquista del potere ma è la necessaria opera di sovversione nei confronti del potere per rimanere in un governo che aderisce a una prospettiva trasformativa e la concretezza di questa affermazione risiede nel fatto che il governo deve essere nient'altro che il tutore e il custode del bene comune ieri il nostro primo ministro questo si legge sugli articoli dei giornali online è andato a Confindustria tempo abbiamo chiamato il luogo dei padroni in realtà sono i padroni sono i ricchi coloro i quali si producono ma fanno anche speculazione finanziaria coloro i quali hanno sicuramente goduto dei benefici derivati dai bonus questa forma di sussidio statale indiscriminato ma a gran parte usufruito dai ricchi si è dato il bonus edilizio a persone che hanno restaurato i loro castelli francamente questo è scandaloso andatevi a vedere la trasmissione di report di ieri sera fa riflettere non c'è nessun dubbio in fondo precedenti fonti governative avevano affermato che è la più grande truffa di sempre quello del bonus 110% non è così che si affrontano le crisi però se si affrontano così ti garantisci il consenso questo è il punto fondamentale ebbene il primo ministro italiano è andato da Confindustria e pare abbia rassicurato i ricchi che lei lascia in pace coloro i quali producono non è una posizione di un governo che abbia al cuore il bene comune che ha costruito il consenso elettorale ammiccando ai poveri alle masse popolari facendo promesse che non manterranno mai e che poi si inchina si genuflette di fronte ai ricchi perché coloro i quali producono usufruiscono come tutti delle strade delle ferrovie degli aeroporti usufruiscono degli ospedali delle scuole si voi direte ma quegli straricchi vanno nelle scuole private non importa è una loro scelta e hanno la possibilità di scegliere perché c'è anche una disponibilità di scuole così come nella sanità molti medici fuggono a tratti dalla sanità privata ma resta in piedi sicuramente un sistema sanitario il quale ha come compito fondamentale un processo di tutela e promozione della salute radicato a livello primario senza di questo non sarebbero sufficienti le rassicurazioni assicurative dimostra il sistema americano largamente fallimentare e costosissimo più costoso del nostro sul PIL incide mi pare intorno al 15% noi intorno al 6% e la nostra sanità complessivamente con tutte le sue strutture regge ancora ma fino a quando se si continua a tagliare anche in questa finanziaria si taglierà il destino di questa sanità è segnato e rompere i meccanismi di tutela e promozione della salute a livello primario sottolineando semplicemente le eccellenze iper specialistiche significa sostanzialmente creare delle condizioni che desertificano la qualità della vita anche laddove vi sono le condizioni inevitabili della morte questi sono punti critici sui quali bisogna ragionare noi abbiamo il sacrosanto diritto a una vita qualitativamente accettabile ma anche abbiamo il diritto di morire in modo accettabile confortati dall'amore di chi ci sta a cuore e ai quali stiamo a cuore punto fondamentale quello della modalità attraverso la quale noi interpretiamo la morte che non è un ostacolo è un momento di dolore di distacco di perdita naturalmente ma allo stesso tempo dobbiamo cogliere nella morte una componente della vita non la fine della vita lo so che questo è un ragionamento difficilissimo da fare soprattutto per le persone che magari in questo momento conoscono il dolore del luto o vivono in sé l'imminenza della morte questo richiede la costruzione di una società fondata sull'amore e soprattutto sull'amore per la vita e costruire una società fondata sull'amore significa appunto generare una vita autenticamente comunitaria nella quale la tua solitudine è accolta con la tua angoscia trovi un gesto significativo di vicinanza stretta di mano una carezza un abbraccio queste sono le cose importanti ma non vanno lasciate a se stesse né da un punto di vista culturale né da un punto di vista sanitario non ci rassicurano le forme della sicurezza che oggi mettono in piedi i populismi sicuritari e nazionalisti questi ci fanno vivere nella paura noi abbiamo bisogno di vivere invece nella speranza nella gioia anche laddove adombrano le nuvole della tempesta e quindi quello genuflettersi all'insegna del lascio in pace chi produce è una scemenza da una parte e dall'altra lo svelamento della sostanziale incoerenza del signor presidente del consiglio dei ministri primo ministro il quale ha fatto una propaganda pluriennale all'opposizione sottolineando la sua coerenza la sua fermezza il suo essere dalla parte delle masse popolari abbandonate dalla sinistra queste forme di populismo hanno caratterizzato le dittature del novecento io con questo non dico che sia la rappresentante di una nuova dittatura ma sicuramente di un meccanismo ingannevole vedete genuflettersi di fronte ai ricchi promettendo detassazioni condoni l'hanno fatto anche gli altri è vero il tema delle tasse è sempre stato trattato in maniera maldestra invece che porre mano a una sburocratizzazione che facesse sì che il bene comune fosse usato in maniera adeguata e pronta si è pensato solo a come detassare questo genera una cultura della indisponibilità a contribuire al bene comune ripeto quello che ti permette di avere la manutenzione del paese anche da un punto di vista ambientale questo è un vantaggio per tutti ma se tu li lasci in pace rispetto alla responsabilità sociale di impresa all'etica nei confronti degli stipendi alla necessità di porre mano alle speculazioni all'inflazione che è generata da una smisurata crescita del costo delle materie prime che incidono profondamente sul pil e che impoveriscono chi è già in una condizione economica traballante o è già povero allora svelato lo scenario non possiamo dire sono tutti uguali dobbiamo chiedere a noi stessi forse non è che siamo noi a essere tutti uguali domandiamocelo questo perché quei condoni che fanno sì che si pone mano a una struttura edilizia in questo paese improntato alla inevitabile catastrofe quei condoni edilizia suggeriscono alludono al consenso se governano quelli mi condoneranno quella edilizia che offende l'ambiente se governeranno quelli allora mi garantiranno qualche euro in più mensilmente ma non mentiamo in evidenza come queste false e ingannevoli promesse ci rendono in realtà più poveri ma per far questo dobbiamo uscire dalla rappresentazione appropriativa ed egocentrica la politica ormai ha solo sfumature non diversità radicali ma perché noi tutti siamo molto tesi all'assoggettamento al conformismo è che loro sono tutti uguali mondo della politica noi dobbiamo metterci in discussione relativamente alle nostre tentazioni che sono uguali per tutte per tutti e molto spesso non troviamo il coraggio della rivolta non della rivoluzione della rivolta ma questa rivolta prima di tutto deve essere rivolta a noi stessi scusate il gioco delle parole questa domanda di cambiamento riguarda ciascuno di noi anche a partire dalle cose più semplici dalla domanda di sobrietà formulata nell'esperienza dei club ed è una domanda forte soprattutto per le persone che si ritengono normali moderate il tema della salute mentale riguarda la salute mentale non la malattia mentale certo in quella salute mentale è contenuta anche l'espressività sintomatica di un disagio che qualcuno chiama malattia mentale ma la centralità è la salute mentale la salute mentale è una domanda che è rivolta a tutta la popolazione anche se nel 90% dei casi si ritiene sostanzialmente di vivere una vita sana mentalmente siamo disposti a metterci in discussione a partire da una dichiarazione di normalità che ci viene o ci siamo autoattribuiti questa è una domanda fondamentale perché questa è la cifra attraverso la quale si rende concreta la presenza delle famiglie nei club che sono sempre molto latitanti oggi invito alla fine di questa riflessione a prontamente iscriversi al momento di convivialità dell'11 dicembre condividere con gioia il cibo fare sì che ci sia una testimonianza di possibilità di profondo godimento della vita è la vita a godere della nostra presenza se siamo capaci di ridurre la potenza desertificante sul piano della relazione sociale che il nostro io esercita presumendo appunto di governare l'imponderabile no il governo dell'imponderabile è nella condivisione nella disponibilità apporre mano alla nostra chiusura identitaria dobbiamo assolutamente accogliere solitudine angosciante che parla il linguaggio della liberazione come forma eccessa della eredità che costituisce la continuità della vita tra molte contraddizioni ma anche con molte altre possibilità che aprono alla gioia autentica alla danza cosmica qualcuno la chiama ma sarebbe sufficiente costruire relazioni serene e improntate alla sobrietà buona giornata a tutti grazie